Bene, a questo punto invito il nostro primo ospite Alberto De Gradi, buongiorno, benvenuto Alberto, vuoi stare giù? Tu sei molto alto quindi puoi anche stare giù con un microfono che io ti posso, decidi tu, stai qua, ti do il microfono, guarda eccolo qua, perfetto, adesso lo trovi lì sopra direi Alberto De Gradi lavora in Cisco, è un senior manager di Cisco, di che cosa ti occupi in Cisco? Mi occupo di architettura in particolare di quella di Internet of Things o Internet of Everything come utilizziamo direi a volte per essere un pochino più inclusivi Tu hai una presentazione, la tua intenzione è terrorizzarci oppure no? Io spero di no, io spero di no, scusa Vorrei dire una cosa poi vorrei sentire il parere di De Gradi la realtà è che nonostante si senta spesso dire che la tecnologia semplifica molte cose della vita beh, purtroppo o per fortuna non so bene da che parte stare la realtà è che tutto si sta complicando e soprattutto tutto sta diventando sempre più veloce e per questo che prima quando dicevo bisogna fare un passo in avanti bisogna farne anche due o tre perché sicuramente anche nel vostro mercato si faranno un sacco di errori e se uno non comincia ad innovare poi gli errori si accumulano e le cose complicate non si riescono a risolvere Alberto grazie Bene, abbiamo una presentazione io parto dicendo veramente due parole su Cisco un'azienda californiana basata in Silicon Valley e in Italia è presente con una struttura di vendita e anche una di ricerca e sviluppo molta gente non lo sa quando compra un prodotto Cisco che è un'interfaccia ottica compra del know-how che è sviluppato in Brianza e quindi un po' di orgoglio italiano noi facciamo tutto quello che fa comunicare prima i computer, poi le persone e adesso anche le cose questo è il nostro obiettivo allora io ogni tanto dico non sono un nativo digitale lo si vede in realtà ho iniziato a lavorare all'Olivetti nella ricerca e sviluppo mi occupavo di una parte che veniva definita allora digitale perché c'era tantissimo di analogico ancora e quindi io ero nella parte digitale ma l'accezione che davamo a quel tempo del digitale non è quella che abbiamo oggi quindi in quel momento erano la seconda metà degli anni 80 digitale era per quelli che lavoravano nell'IT e basta scrivevamo con degli zero e degli uno dei dati ma era molto diverso rispetto adesso tant'è che ogni tanto faccio una battuta e dico mia madre non riusciva mai a spiegare quello che io facevo ai suoi amici alla fine diceva mio figlio lavora nei computer dando quasi un'accezione fisica al fatto che io stessi dentro e da un certo punto di vista ci ha visto lungo perché in realtà noi oggi abbiamo una vita che non è nei computer ma è nella rete è online o come qualcuno dice è on life quindi l'accezione che diamo oggi al digitale è molto molto diversa rispetto a quella di un tempo il digitale non è più solo per le persone dell'IT c'è una parola che può suonare anche brutta che è contaminazione ma la dobbiamo prendere nel senso buono la digitalizzazione cioè l'IT sta contaminando un po' tutti i settori e questo è quello che sta avvenendo prima si parlava di coda ci sono moltissimi esempi c'è una slide che io non uso più perché è diventata strasfruttata dove si dice oggi la più grande compagnia di taxi non possiede un taxi la più grande compagnia di prenotazioni alberghi non possiede un singolo albergo eccetera eccetera è cambiato tutto è cambiato un modello di business completamente e oggi la digitalizzazione è qualcosa che afferisce in generale alla nostra vita sia la nostra vita personale che la nostra vita di business quindi questa è una realtà qualcosa che dobbiamo realizzare dobbiamo di cui dobbiamo prendere coscienza e non ci sono mai state tante possibilità come adesso cioè la digitalizzazione ha abbassato la soglia di determinate cose quindi io porto due degli tanti esempi che faccio a volte il primo è quello di una ragazza di 22 anni che si pagava all'università facendo la babysitter che a un certo punto si è trovato da Bank of America quindi insomma comunque una realtà importante negli Stati Uniti una tassa addizionale di 5 dollari sulla carta di debito allora in un momento diverso rispetto a quello di oggi quella persona poteva tutto al più andare nella filiale e dire non mi pare giusto avrebbe parlato con la persona sbagliata che non aveva il potere di cambiare le cose e alla fine avrebbe dovuto subirlo grazie a internet ha aperto una petizione su un sito che si chiama change.org ha ricevuto talmente tante adesioni da convincere la banca a rimuovere questa tassa oppure quell'altra che vedete è una ragazza che oggi è una delle 25 anni probabilmente più ricche degli Stati Uniti che ha iniziato per gioco il venerdì sera perché le piaceva truccarsi pensava di poterlo fare bene a registrare dei piccoli suggerimenti a metterli su YouTube dicendo vi consiglio di far così per prepararvi la vostra serata del venerdì sera pian piano è cresciuta in termini di followers quindi di seguaci solo se sapete quando arrivate a mezzo milione YouTube vi dà la possibilità di andare nei loro studi a San Diego dove trovate la tecnologia più professionale possibile per registrare il vostro video e lo fa gratuitamente e da lì ovviamente le società che producono cosmetici hanno pensato bene di spostare un po' di soldi da una pubblicità normale o tradizionale verso di lei quindi lei si presenta con la magliettina di una società e con i prodotti di quella società e fa sempre la stessa cosa e è diventata imprenditrice di se stessa e oggi come dicevo probabilmente è una delle 25 anni più ricche degli Stati Uniti quindi pensate come è cambiato tutto grazie alla digitalizzazione e quali possibilità ci sono oggi e è cambiata la nostra vita una volta compravamo i cd oggi c'è la musica si dice liquida quindi ci compriamo la canzone che ci interessa a fine una volta per leggere un giornale andavamo a prenderlo in edicola un libro in libreria oggi lo potete scaricare da internet lo stesso vale per i film se volete comprare qualcosa lo fate attraverso internet in più in futuro probabilmente lo comprerete un oggetto digitale che vi stamperete magari all'inizio non a casa o ci stamperemo non a casa ma probabilmente in qualche stamperia digitale 3D che sarà vicino a casa e poi alla fine avremo un elettrodomestico in più in casa che sarà una stampante 3D quindi il modello di business dietro a tutto questo è cambiato e cambia radicalmente dove e cosa ci ha portato qui ci ha portato qui l'evoluzione di internet quindi internet possiamo sintetizzare che è passata attraverso quattro fasi la prima è stata quella di fare dare connettività creare un catalogo elettronico quindi la posta un catalogo elettronico uno poteva avere una vetrina mondiale cosa che già era qualcosa di importante poi l'e-commerce è cominciato a commerciare quindi a fare business su internet e non ci dimentichiamo e io lo dico spesso che noi noi quando dico noi dico noi italiani non abbiamo capito il valore in questo momento in quel momento dell'e-commerce no? non abbiamo capito che potevamo sfruttarlo a nostro favore e probabilmente quello è stato un errore e una delle cose che io dico non ripetiamo lo stesso errore non aspettiamo che sia troppo tardi utilizziamo oggi il processo di digitalizzazione per cambiare il nostro modello di business per cambiare le nostre aziende perché altrimenti c'è qualcun altro che lo fa quindi in America si dice disrupt to be disrupted che è forte cioè qualcosa un po' di esagerato quindi se non lo fai tu qualcuno lo fa tuo danno alla fine ma in realtà è quello che sta succedendo perché siamo veramente in un momento in cui la digitalizzazione e l'utilizzo della tecnologia deve essere visto quasi come una rivoluzione come quelle rivoluzioni in cui siamo passati con la rivoluzione industriale eccetera perché va a cambiare il settore prima produttivo poi economico politico e alla fine l'esperienza di vita di tutti noi e quindi tutto questo appartiene a quelle cose così drastiche che sono alla fine le rivoluzioni per cui che cosa ci ha portato scusate poi c'era il social e poi la digitalizzazione che cosa ci ha portato a fare tutto questo beh ci sono dei facilitatori voi vendete materiale il materiale soprattutto quello elettronico ha avuto un cambiamento radicale no il costo dell'elettronica ma non solo il costo le dimensioni dell'elettronica il consumo energetico dell'elettronica è caduto tantissimo per cui oggi magari se comprate un cellulare spendete qualche centinaia o un anzi uno smartphone spendiamo qualche centinaia di euro ci sembra tanto ma in realtà compriamo qualcosa che è più potente del computer che ci ha portato sulla luna tutto sommato sì un po' di qualche decina di anni fa ma non tantissimo se fate un paragone in realtà vi rendete conto di come il costo dei transistor alla fine che ci sono all'interno dei processori si è cambiato tantissimo a favore e quindi ecco questo è un fatto che ci fa capire che oggi per cui parliamo di internet delle cose perché mettere un po' di intelligenza all'interno di qualunque cosa sensoristica software eccetera tutto sommato ha un costo abbastanza basso ha anche come dicevo un ingombro molto basso e un consumo energetico diciamo sostenibile ed ecco quindi perché tutto questo rende e favorisce la capacità di arrivare di arrivare lì si dice un ipad 2 che oggi già è preistoria io ce l'ho in un cassetto perché alla fine non lo utilizzo più sarebbe costato un patrimonio se lo riportiamo agli anni 50 e non è solo la connettività la connettività in realtà è il primo passo dell'internet delle cose ma il vero valore dell'internet delle cose sta poi nei dati che noi riusciamo a estrarre da queste cose perché se noi banalizziamo un attimo l'internet delle cose noi prendiamo qualcosa di fisico gli mettiamo un po' di intelligenza gli mettiamo la capacità di portare queste cose attraverso la comunicazione quindi attraverso il fatto di essere connessi fuori da questo oggetto e portiamo dei dati quindi creiamo una quantità di dati e la quantità di dati che stiamo creando è enorme li vedete negli ultimi due anni abbiamo creato una quantità di dati spropositata e continuiamo a crearne sempre di più noi adesso stiamo affinando la capacità di analizzarli questi dati oggi ne analizziamo ancora molto pochi e soprattutto questo è un aspetto tecnico noi siamo stati abituati ad analizzare dei dati strutturati quindi che hanno una certa struttura oggi invece soprattutto i social quindi abbiamo i video abbiamo i like che mettiamo nei social quali sono dati che non sono strutturati richiedono un processo diverso un pochino più laborioso per essere analizzati ma lì c'è dentro tantissimo valore ogni tanto e magari lo conoscete bene questo processo spiego a qualcuno qualche mio amico che mi dice ma sai che l'altro giorno ho cercato una cosa su internet sono entrato in facebook e mi sono trovato una pubblicità di quella cosa sono andato a vederla e l'ho comprata ma non è un caso e gli dico ah no mi dice ma sai che pensavo che era un caso no non è un caso sono i dati che vengono sfruttati che vengono utilizzati i dati hanno un valore e come si dice diventeranno un'economia pari o forse più rispetto al petrolio all'economia che abbiamo oggi del petrolio quindi i dati sono un altro fattore e i dati vanno a cambiare tutto e sono il vero valore il vero valore sta nei dati quindi la connettività è necessaria il vero valore viene poi dai dati quindi dalla capacità di prendere queste informazioni con queste informazioni creare nuova conoscenza con questa nuova conoscenza creare nuovi prodotti nuovi modelli di servizio dare qualcosa di diverso ai nostri clienti lì sta il vero vantaggio e ve lo dice uno che invece lavora per un'azienda che è famosa per la connettività ma noi stessi ci stiamo spostando in quest'area perché diciamo è quello il valore dell'interno e delle cose sono i dati allora cambia tutto e già è cambiato tutto in quello che possiamo definire consumer cioè nel mondo che sta magari abbiamo il braccialettino che ci dice quanto bene abbiamo dormito quanti passi abbiamo fatto nel nostro smartphone ci sono una serie di sensori incredibili giroscopio accelerometro ci sono un sacco di cose per cui si possono ottenere una serie di informazioni prendete quelle cose le mettete in tante di quelle cose che stanno nella nostra vita io per esempio utilizzo quello spazzolino per denti che vedete lì e ho scoperto banalmente che non facevo un lavoro siccome sono mancino non facevo lo stesso lavoro bene sull'arcata destra rispetto all'arcata sinistra è un fatto dovuto alla mia impugnatura la mia capacità di tenere bene lo spazzolino adesso ne sono cosciente e faccio un lavoro quindi faccio un'igiene dentale un pochino più attenta ma è un piccolo esempio ma il valore viene appunto dai dati cioè io non lo sapevo adesso sono cosciente ho preso coscienza di una cosa quindi la capacità di avere delle informazioni mi consente poi di migliorare qualche cosa e lì vedete una serie di cose potremmo parlare su queste per un'ora ma al di là delle cose che sono più consumer in realtà quello che sta succedendo è anche che le connettività dell'internet delle cose la sensoristica stanno arrivando anzi sono arrivate perché vedete la maggior parte di questi una buona parte il 37% oggi sono connessioni per applicazione industriale prima si è parlato di fabbrica 4.0 che è sicuramente uno degli aspetti fondamentali per il nostro futuro quella è una delle partite di questo secolo che noi non dobbiamo come italiani assolutamente perdere quindi digitalizzare la supply chain e andare a lavorare con tutte quelle cose che riguardano la produzione industriale portando l'IT all'interno della produzione quello che viene oggi chiamato operation technology e questo va a cambiare un po' tutto il mondo lì ci sono alcuni esempi si parla molto di smart city o come preferiamo chiamarlo noi questa è una nostra accezione smart connected community perché la smart city sembra dare l'intelligenza alla città che per certi aspetti è vero però siamo diciamo la tecnologia deve sempre considerare che l'uomo la persona sta al centro e quindi smart connected community probabilmente rende di più questa idea quindi servizi che sono per noi come si diceva prima la tecnologia alla fine la puoi in qualche modo subire piuttosto che gestire io penso che cambia anche molto il modo in cui noi lavoriamo con la tecnologia una volta noi ci dovevamo adattare alla tecnologia oggi è la tecnologia che si adatta a noi oggi noi possiamo schiacciare un pulsante e dire chiamami Francesca piuttosto che chi vogliamo e abbiamo un assistente da questo punto di vista è un esempio semplice ma per dirvi come la tecnologia sta evolvendo per essere molto più capace di essere al nostro servizio noi abbiamo bisogno di essere meno tecnici e possiamo utilizzare meglio la tecnologia questo avviene in tutti i settori lì vedete parliamo di collision free traffic le macchine che si guidano da sola l'interazione con i sensori di tutto possiamo anche su questo potremmo spendere tantissimo tempo smart agriculture l'industria 4.0 noi in particolare come azienda ci siamo focalizzati perché poi è difficile far tutto sull'industria 4.0 e sull'agricoltura più che sull'agricoltura in realtà sul tracciamento di quello che l'agricoltura genera per cui per esempio in Expo avevamo fatto in collaborazione con la Barilla una limited edition delle farfalle confezionate insieme a un sugo pomodoro e basilico dove voi potevate con un QR code risalire a tutta la filiera che c'era dietro quindi sapere da dove arrivava il grano dove arrivava il pomodoro tempi e modi di lavorazione eccetera e questo garanzia della qualità di un prodotto ovviamente questo lo potete applicare a tutto quello che oggi che volete e che fate anche voi ok la disruption tecnologica crea una quantità di opportunità qui ci sono cinque aspetti sui quali secondo noi si declina quindi migliorare l'utilizzo degli asset cioè la tecnologia ci consente di andare meglio ad utilizzare i nostri asset che abbiamo aumentare la produttività questo è uno degli aspetti fondamentali e la digitalizzazione della supply chain dare un'esperienza ai nostri clienti di tipo diverso perché alla fine loro si aspettano oggi di avere un'esperienza diversa nell'interazione con noi a volte in questi eventi oggi mi sembrava un po' troppo banale utilizzo un filmato di Pizza Hut che fa vedere che a Dubai utilizza un tavolo interattivo dove i clienti si siedono e da questo tavolo interattivo incominciano a scegliere la pizza scegliendone prima il diametro poi potendo andare a scegliere tutte le componenti facendo anche una pizza diversa per spicchi cliccando e ordinando pagandola dallo stesso banco e poi facendo dei giochini interattivi intanto che la aspettano quello non fa la pizza migliore ma fa un'esperienza diversa per chi vuole la pizza e alla fine ci vuole sicuramente la qualità nel prodotto quindi ci vuole la pizza buona in questo caso però non dobbiamo escludere il fatto che molti clienti vogliono un'esperienza a 360 gradi che include anche come io vado ad ordinare la pizza non solo la pizza buona e questo fa uno degli elementi di preferenza che mettiamo all'interno della customer experience e poi un'innovazione quindi oggi con la tecnologia si può fare innovazione innovazione anche solo di processo Uber alla fine non ha inventato niente è un'innovazione di processo le macchine c'erano la geolocalizzazione c'era grazie alla tecnologia lo smartphone c'era mette insieme queste cose in modo opportuno e crea un'innovazione non ha inventato niente ma è innovato un processo e queste le possiamo dividere in due grandi aree quindi risparmiamo denaro facciamo le stesse cose meglio risparmiando denaro oppure ovviamente andiamo invece a creare opportunità nuove e di conseguenza creare fondamentalmente denaro queste sono le previsioni di connettività 50 miliardi nel 2020 500 miliardi nel 2030 non sono numeri a caso nel senso che quella crescita è la crescita che vediamo all'interno del traffico dei service provider ogni oggetto che si collega a internet ha un suo diciamo codice fiscale si chiama macadress ma al di là del tecnicismo quindi in modo univoco possiamo identificare i device che ci sono creiamo un trend e sappiamo dove arriviamo nel 2020 ci saranno circa sette volte gli oggetti in internet rispetto alla popolazione che avremo quindi tantissimo gli elementi che sono oggi degli strumenti se ne è parlato prima il cloud la mobility sono tutte cose che oggi abbiamo come disponibilità e veramente le aziende piccole a volte l'ho notato anch'io nella mia attività sono quelle che riescono maggiormente o con più rapidità a cogliere il valore di queste e quindi mobile cloud la capacità di fare nuove applicazioni big data e analytics quindi i dati il valore di andare a analizzare e guardare il valore che c'è all'interno dei dati diventano fondamentali quindi innovare il prodotto e fare un nuovo servizio questi sono i due output di tutto questo quindi io posso fare un prodotto migliore perché capisco immaginate io faccio un esempio molto pratico che magari distante anzi sicuramente distante al vostro lavoro ma immaginate di avere una lavatrice connessa a internet io posso sapere esattamente quanti cicli e quali tipi di lavaggio fa e posso creare un prodotto migliore non solo posso passare dal vendere il prodotto al vendere un servizio ti vendo un certo numero di lavaggi invece che il prodotto questo è un altro cambio se ci guardiamo intorno sta già succedendo car to go non compro la macchina utilizzo il servizio e questo è un cambio che la tecnologia abilita un po' in tutti i settori ed è un cambio mentale al quale noi ci stiamo abituando e soprattutto le nuove generazioni si stanno abituando a questo nel retail bene nel retail io ho portato qualche esempio machine to machine cioè le macchine che parlano alle macchine possono dirci esattamente quanto inventory abbiamo quindi cosa abbiamo nel magazzino possono integrare automaticamente quello che ci serve quindi possono sapere grazie agli analytics che cosa sta andando di più e reintegrarlo in modo automatico quindi ci sono una serie di cose che possono essere realizzate poi in questo caso machine to people quindi analytics andare a vedere il comportamento degli utenti sapete che attraverso il wireless oggi noi nei grandi magazzini siamo in grado di sapere esattamente il percorso che fanno le persone quanto si fermano davanti a una certa area espositiva e quindi capire che cosa gradiscono e che cosa non gradiscono quindi oggi siamo capaci di mappare queste cose e quindi di avere dei dati sulla base dei quali poi sviluppare qualcosa di diverso e poi l'ultima parte l'utilizzare la capacità comunicativa attraverso i mezzi che oggi abbiamo multimediali per fare per esempio remote expert magari in un centro non abbiamo in un punto vendita non abbiamo sempre l'esperto di tutte le tecnologie ma possiamo metterlo centralizzato remotizzato in modo tale che possiamo avere disponibile l'esperto grazie alla tecnologia in qualunque momento indipendentemente dal fatto fisico dove lui possa essere questi sono degli esempi pratici che riguardano il retail che cosa succederà allora gli studi ci dicono che nel 2020 il 75% del business sarà digitale quindi una percentuale veramente alta e chi non avrà la capacità di rivedere completamente il proprio business questa è una delle cose importanti potrebbe essere questa la causa del proprio insuccesso quindi l'incapacità se vogliamo oppure siamo sempre un po' come dire abbiamo sempre qualche timore nei cambiamenti questo credo che sia umano non è niente di è quello che probabilmente tutti noi abbiamo al nostro interno dobbiamo un po' vincerlo perché c'è un cambiamento importante in atto che dobbiamo e dobbiamo realizzare che è così e quindi dobbiamo avere la capacità di rivedere ripensare completamente il nostro business grazie alla tecnologia e la multidisciplinarità sono arrivato alla fine la multidisciplinarità quindi la capacità anche non semplicemente di utilizzare e di pensare alle cose che stanno nel nostro settore ma la capacità di integrarne diversi ho detto che c'è questo effetto contaminazione quindi l'IT in generale è uno degli elementi o degli ingredienti in più nell'ambito della multidisciplinarità ma in generale tutto questo oggi si parla per esempio di mecatronica sono esempi di multidisciplinarità questo è un altro dei suggerimenti che vi do e lo trovate e lo troviamo in generale anche con i giovani i giovani sono molto attenti a questo e secondo me lo stanno capendo molto bene spero di avervi dato qualche diciamo spunto interessante ritorno la parola a Enrico bene grazie a tutti grazie a tutti